Sono un centinaio gli strumenti di misurazione di età romana che sono stati restaurati per la mostra Le Misure dei Romani, ospite da oggi e per circa un anno al Museo Archeologico di Verona. Via le barriere architettoniche, per visitare il museo da oggi si passerà dall'ingresso di Piazzetta Martiri della Libertà, un ingresso rinnovato in seguito all'intervento di riqualificazione realizzato in questi mesi e costato 80.000 euro. La mostra è una mostra molto interessante, tengo a dire allestita completamente con oggetti di proprietà del museo che fanno parte delle collezioni dei musei, oggetti che normalmente non sono esposti, quindi sono queste mostre temporanee che comunque durano 12 mesi perché questa mostra sarà allestita così fino a settembre 2018. ecco, danno l'occasione ai visitatori di poter approfondire e vedere oggetti che normalmente non sono in visione. Le misure dei Romani, quindi lunghezza, peso, capacità, ma anche la misura di valore data dal denaro e in più nella quarta vetrina, appunto delle quattro totali dedicate alle mostre temporanee sempre qui al Museo archeologico, c'è un caso legato proprio al nostro territorio.